Ciao a tutti ragazzi sono Leotech e bentornati in questo video del canale in questo video andiamo a vedere come far apparire la modalità Procento tra le nostre modalità di gioco visto che molto spesso non sta apparendo e presenta molti molti bug quindi appunto andiamo a vedere come fare per ammettere questa modalità dovrete semplicemente entrare qua nella modalità creativa cliccate giochiamo e inserite il codice che il codice è esattamente questo qua cliccate scoperta come vedete qua ancora in estate cosmica non è disponibile quindi andate qua su cose idee fate CTRL V questo qua il codice sta tornando ora a schermo cliccate lancia e come vedete eccoci qua ragazzi ci sta portando all'interno di questa modalità quindi una volta che saremo all'interno di questa modalità avremmo potuto completare molto semplicemente queste sfide dell'estate cosmica che ci credono semplicemente di giocare nella modalità Procento ok in frattempo si è caricato come vedete questa qua è la mappa in cui possiamo completare tutte le sfide accettate come vedete qua questa è la mappa dovete essere in 16 giocatori quindi aspettate che si carichi e così potete completare molto molto semplicemente tutte le sfide dell'estate cosmica all'interno di Fortnite ma quindi detto questo il video ti può terminare qua spero vi sia piaciuto iscrivetevi al canale attivate la campanella delle notifiche e detto questo ragazzi ci vediamo alla prossima trovare tutte le altre sfide dell'estate cosmica caricate all'interno del canale quindi detto questo ci vediamo alla prossima